Che cosa troverai in questo libro? Parole per vendere si basa su anni di ricerca e di esperienza nel campo della programmazione neurolinguistica, PNL e della vendita. La PNL ha svariati campi di applicazione e si sviluppa in diverse direzioni. Qui ci interessa quella legata al modo in cui noi, usando consapevolmente la nostra comunicazione linguistica, possiamo influenzare positivamente programmazione, il nostro cliente, attivando particolari reazioni nel suo cervello, neuro. In questo libro troverai tre presupposizioni di base, 18 parole magiche, 10 parole tossiche, 3 diversi modi di vendere, 10 modi di autodistruggerti, 5 cose da sapere sui verbi, 5 strategie per gestire e superare le obiezioni, 3 trucchi per aumentare le tue vendite, 7 presupposizioni, 3 leve motivazionali, 5 domande strategiche e 5 modelli linguistici persuasivi. Inoltre, incontrerai numerosi esempi di frasi da utilizzare, script di vendita e simulazioni. Avvertenza. Questo libro è pensato come un manuale pratico e velocissimo da consultare. Tengo a dirti che in ogni caso nessun libro può sostituire la pratica maturata prima in aula, durante i corsi e poi sulla strada davanti al cliente. Perciò mi auguro che questa lettura sia per te lo spunto per iniziare un nuovo straordinario percorso e una nuova scintillante carriera di risultati e di successo.